Il nonnino più longevole di Torre dei Passeri è compiuto ieri venerdì 20 ottobre 101 anni. Presenza di spirito, una memoria invidiabile, vive ogni giorno con curiosità, interessandosi di quanto succede in paese, esprimendo la propria opinione su quello che ascolta in televisione. Quintino laureati, aspendo le candeline delle 101 primavera e splendida forma, nella sua casa di Torre dei Passeri, in viale della Repubblica, circondano dall'affetto di nipoti, pronipoti e amici. Originario di Torre dei Passeri, Quintino laureati è nato e vive a Torre dei Passeri. A chi gli chiede quale sia l'elisir della sua lunga vita, Quintino laureati, con un serriso sorgnone, risponde «Fumo solo tre o quattro sigarette al giorno, che paese e trascorro le mie giornate leggendo insieme ai miei amici, con i quali spesso gioco a carte». Anche il sindaco Piero Di Giulio ha voluto celebrare questo traguardo donando a Quintino laureati la copia integrale al suo atto di nascita, il ricordo di quella giornata. Grazie a tutti.